Il Movimento 5 Stelle interviene sul progetto per la realizzazione di una nuova rete di metanizzazione e indice un incontro per domani sera con i cittadini. Come si può ancora chiedere soldi dopo 20 anni di disagio subito, afferma il Movimento. L'amministrazione comunale di Terra Nuova lancia ancora una volta un appello ai cittadini per la realizzazione della nuova rete di metanizzazione nell'area di Podere Rota. Il Movimento 5 Stelle organizza sull'argomento un incontro domani sera alle 21 al Circolo della Badiola. Vogliamo spiegare nel dettaglio e mettere a conoscenza i progetti di indennizzo che li interessano in modo diretto, afferma Marco Bonaccini, portavoce del Movimento 5 Stelle terrenovese. Opere quali la realizzazione di un acquedotto e di un metanodotto. Tali investimenti saranno coperti con i 10 milioni di euro di opere di compensazione a carico della società che ha ampliato la discarica. Abbiamo appreso purtroppo però e con incredulità dalle famiglie interessate che anche allora è stato chiesto, così come nelle frazioni di Malva, Persignano e Piantravigne, un contributo di 1000 euro più IVA per poter accedere al servizio. Verranno inoltre chiesti altri 665 euro per le normali spese di allacciamento. Dopo 20 anni di disagio ambientale, con una discarica gestita in maniera pessima, senza offrire il minimo servizio e risarcimento alle famiglie colpite che si sono viste depredare la salute, la libertà di movimento e che hanno subito la svalutazione degli immobili, come si può ancora chiedere soldi per un'opera di compensazione al disagio ambientale subito? Termina Marco Bonaccini del Movimento 5 Stelle. ...